E ancora l'arte e lo spettacolo per raccontarvi che il prossimo weekend al Teatro Instabile di Napoli andrà in scena sempre felici fuori dal mondo, monologo molto intenso e che al centro il disagio mentale. Abbiamo oggi il piacere di avere, di intervistare la protagonista assoluta e sicuramente un volto noto a tutti, la splendida Cloris Brosca. Buongiorno e con lei c'è il regista e autore della pièce Piero Zuccaro. Ben trovati. Buongiorno, ben trovati a voi. Allora, Cloris, partirei da te e mi chiederti di questa pièce teatrale che vede al 103 come assoluta protagonista, di un monologo che ti vede catapultata tra pensieri, ossessioni, fantasmi dell'anima. Come ci si approccia ad uno spettacolo così importante, al contempo così impegnativo? La cosa che a me è venuto subito è cercare la rispondenza del testo dentro di me, perché io penso, come penso anche tante altre persone, che il concetto di normalità e follia è un concetto che ha molte varianti e che come esseri umani siamo così ampi che possiamo recepire in noi anche delle stanze che in qualcuno che ha un disagio mentale sono più accentuate, ma sono delle cose che appartengono anche a noi. E quindi io ho cercato proprio di sentire come se io fossi quella persona e che cosa mi avrebbe spinto a dire quelle cose o a fare quelle cose. Naturalmente, come dicevo prima, è uno spettacolo molto impegnativo e Piero parliamo, come diceva Cloris, di un concetto che secondo me non potrebbe, come appunto dice Cloris, non può essere legato in un concetto, perché all'interno dello stesso ci sono tante sfumature nelle quali ognuno di noi può ritrovarsi. E il tuo interesse per questo tema così delicato non è solamente di oggi, perché già tempo fa e anni fa ti sei dedicato a classi clinici attraverso un laboratorio di teatro sociale di disagio mentale. Posso chiederti perché decidi di affrontare ancora una volta questo tema così delicato? È necessario sensibilizzare ancora di più sull'argomento? Il teatro si deve fare portatore di messaggi così importanti che molte volte vengono ancora ad oggi considerati come tabù? Non è una battuta perché nel mondo stiamo uscendo tutti pazzi e quindi secondo me è importante mettere in scena la follia per dimostrare che poi non è così lontano quel rischio dalla vita di tutti i giorni pur partendo tantissimi anni fa come tu hai detto avendo conosciuto questa realtà tantissimi, tantissimi, davvero tantissimi anni fa. Per cui penso che far vedere che questo tipo di quelli che vengono chiamati comunemente pazienti in realtà sono molto 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 simili a noi e che a volte addirittura potrebbero non sembrare degli schizofrenici può servire per calmierare tutta una serie di tensioni che ognuno di noi ha dentro di sé ma soprattutto dare voce a questa soggettività serve a far capire che il problema psichiatrico non è stato assolutamente risolto per quanto riguarda almeno l'Italia e poi ovviamente il discorso europeo e mondiale non è che ci debba interessare in questo momento. È sicuramente uno spettacolo di grande sfondo sociale e Cloris io ti stimo molto come attrice mi piace tantissimo e volevo chiederti, se posso permettermi di chiederti, di farti questa domanda quando hai letto il copione, la parte, c'è stata una scintilla che ti ha fatto comprendere che quella era la parte giusta per te e che eri in grado di poter interpretare? Sembrerà strano ma in realtà c'è una piccola filastrocca all'inizio che dice, credo di non svelare nulla, per cui che dice lui è qui, lui è lì, lui è ovunque, non gli dì e quella mi ha cominciato a suonare dentro con questa musichetta lui è qui, lui è lì, lui ovunque, non gli dì ed è stata come una specie di piccolo spiraglio attraverso cui sono entrata in questo testo e poi molto, la cosa che mi è piaciuta molto sono state tutte queste considerazioni madre-figlia, moltissimo che anche nelle famiglie cosiddette normali il rapporto tra madre e figlia di solito è un rapporto molto impegnativo molto cogente, è un rapporto in cui succedono spesso come dire, non degli abusi ma insomma un po' delle violenze cioè questo delle volte succede anche tra genitori in generale a prescindere dal sesso e figli quelle violenze inconsapevoli sì, nel senso che io non sono madre, io non ho figli però penso che una delle cose più difficili per i genitori sia riuscire a tenersi un passo indietro nel senso insegnare ma poi non prevaricare il figlio mentre invece delle volte succede questo e quando succede questa cosa non si è risolta poi il figlio da grande è come volesse vendicarsi inconsciamente con il genitore e questa cosa è analizzata attraverso tutte queste frasi smuzzicate questi dialoghi che probabilmente ci sono stati con i medici e tutto è analizzata in questo testo cioè è offerta all'attenzione dello spettatore sicuramente molto interessante ma con delle sfumature profonde che mettono al centro la psicologia umana tutto questo stato d'animo, questi sentimenti che riaffiorano naturalmente però hanno a che fare anche con degli oggetti perché molte volte gli oggetti diventano il tramite per far scaturire dei sentimenti folli o meno folli quelli che riguardano il disagio mentale ma anche l'ossessione vogliamo parlare anche un po' di questi oggetti che sarebbe poi anche un po' la maschera della rappresentazione trattrale fra questi c'è un diario la ricerca ossessiva di un diario che cosa restituisce il diario? che cosa vuol significare metaforicamente? la ricerca verso quel ricordo come diceva Cloris in un gesto, in una parola detta e non metabolizzata che ha fatto male che deve essere appunto elaborata? allora il diario per chiunque a una certa età quando eravamo giovani che siano maschietti o femminucce è stato sempre uno scrigno nel quale mettere una serie di cose ovviamente non possiamo svelare il motivo della ricerca di questo diario diciamo che possiamo mettere una pulce nell'orecchio al pubblico cioè dire che questo spettacolo sulla follia ispirato all'immaginario onirico di una schizofrenica è in realtà uno spettacolo di teatro poesia c'è molto di poetico per cui quando questa donna questa donna parla fondamentalmente di quattro persone parla soprattutto di una madre parla soprattutto di una misteriosa sorella parla di questo misterioso marito e parla in realtà anche di sé ma al pubblico io lascerei la possibilità di decidere quella donna che vedono sulla scena in camicia da notte chi è ovviamente di queste tre cioè della madre di questa misteriosa sorella e di se stessa può essere un gioco interessante perché in realtà non c'è una soluzione io non ho voluto dare una soluzione chiara vorrei che il pubblico decidesse questo e questo lo leggo al discorso degli oggetti perché in scena ci saranno soltanto due fondamentalmente due o tre oggetti poggiati su un tabellone del gioco dell'oca che è un tabellone antichissimo dei tanti che si ritrovano in letteratura io ho scelto ovviamente quello che mi piaceva di più e quindi il pubblico avrà la possibilità negli intermezzi di gioco dell'oca di questa donna di vedere proprio realmente in quale casella va che cosa come reagisce il fatto che sia andato in quella casella con una serie di infinite possibilità e variabili che per l'appunto non hanno sovrastrutture e non possono avere etichette non ho capito scusa no che in realtà attraverso quelli che possono essere dei segnali che non hanno poi delle etichette che non hanno sovrastrutture delle risposte che restano comunque aperte per il pubblico in conclusione Cloris l'Evocativo diventa il titolo si può essere veramente felice se protetti dal buscio della follia perché Evocativo appunto diventa il titolo sempre felici fuori dal mondo questo non lo so questa è una cosa veramente che rimane dentro come una domanda come una possibilità e soprattutto come una riflessione che cosa significa questo sempre felici fuori dal mondo significa cioè è una riflessione un'offerta di riflessione al pubblico e allora noi invitiamo il pubblico a riflettere proprio questo weekend al Teatro Instabile di Napoli sempre felici fuori dal mondo un monologo intenso sul disagio mentale con la splendida Cloris Brosca e oggi con noi a raccontarci neanche il regista e autore della pièce Piero Zuccaro grazie e complimentissimi a presto grazie a voi ciao arrivederci pubblicitari state con noi a presto grazie a tutti